Una notizia che mai avremmo voluto dare, ma purtroppo la città di Agropoli piange Carlo Castaldo, un giovane trentenne colpito dal Covid-19 alcuni giorni fa. Carlo era stato ricoverato presso il Covid Hospital di Agropoli già in condizioni urgenti e purtroppo non è riuscito a battere il virus che qualche giorno prima del suo ricovero aveva provocato il decesso della madre. Ad annunciarne la scomparsa il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, è con profondo dispiacere che devo annunciarvi il decesso di un altro nostro cittadino, scrive il sindaco. Si tratta del giovane Carlo Castaldo, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva del presidio Covid di Agropoli. Dal principio le sue condizioni sono apparse critiche fino purtroppo alla sua scomparsa avvenuta questa mattina. Naturalmente il sindaco si riferisce a sabato. Un abbraccio forte alla famiglia, da parte mia e all'intera amministrazione che rappresento per questa perdita tanto dolorosa. Oggi è un giorno triste per tutta la comunità. Anche la redazione di Cilento Channel si associa al dolore dei familiari per la perdita del giovane Carlo.